No ma la sposa è immenso, immenso Ecco, tornati in collegamento in questo momento, sono stato assente e mentre l'assente sono arrivate le nuove ragazze Guardate che bel quadretto, a parte il personaggio principale che è quello che stona, perché è una che si sposa nel 2016 Due gennaio Anche tu? Perché poco fa c'è stata una che è stata intervistata, anche lei è il 2 gennaio Tu dove? In Baldinon Baldinon, cioè dimmi il paese Minore Provincere di? Trento Sì, perché considera che questo video lo ascolteranno anche negli Stati Uniti, per cui uno deve sapere anche dov'è Quindi mi raccomando, mi raccomando, mi raccomando, tanto strudo da portare qua al convento Aspetta, metto anche io nel quadretto, posso entrare anche io nel quadretto? Allora, il tuo futuro marito come si chiama? David David, scusa, allora adesso io voglio per la domanda, appena sei entrato mi sono chiesto C'è un perché di questo cetriolo? Non credo, è un ortaggio a caso Sì, ecco, fatti Aspetta, scusa, chiedo l'amica È molto dotato È la sorella? Sì Perché tutte le volte che, scusa, sta cadendo la cornice, ecco qua, grazie Se viene sgarbi, si arrabbia Allora, perché la sorella tutte le volte, l'hai già vista? No, 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 questo di no Allora, ecco, quindi tu ti sposi per? Per? Sì, per il cetriolo, no? No, per amore Per amore, mamma mia Queste Qua Allora, per amore non capite male, non c'entra niente cetriolo perché Perché il tuo marito si chiama? David Com'è? David David che piace molto l'insalata Certo È molto È frutta, sono ortaggio Ma io ho sentito un brivido blu quando ha detto solo questo Allora, ragazzi, non fate la fotografia ma solo video Allora, intanto, tu hai chiesto il nome, eh? Nicoletta Nicoletta, mamma mia, altri sposi Tu, gennaio Sempre in Val di Nonna Sì, sempre in Val di Nonna Siamo invitati anche noi Volentieri Ci vengo volentieri 11 Che ora? 11 di mattino 11 di mattino Così presto Così presto Sì, ma di domenica Di sabato Sabato, porca miseria, c'è un impegno C'ho la trasmissione, devo guardare amici No, prima guardo studio aperto Quindi, vabbè, comunque Sì, però vi dammi la serata Ecco, allora, intanto, compitiamo e finiamo Diamo la fine a questo bel quadretto Che ringraziamo tutti quanti Il convento ti ringrazia perché sei venuta qua a festeggiare il tuo nominato Dice Carlone Lo sai, non ho deciso nulla per questa sera Ah, una bella sorpresa Una sorpresa Quindi la tua prima volta La mia prima volta Mamma mia Non sapevo dove stavo arrivando Quindi tu non sai cosa vai incontro Non lo so, non ne ho la minima idea Bene, sicuro, quindi facciamo Allora, non ti diciamo niente Sarà una grande sorpresa di noi E delle tue amiche Dice Carlone Da Nicoletta E dal futuro marito David Ci vediamo il 2 gennaio Ciao Il 2 gennaio Ciao, ciao Ciao, 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 ciao Ecco qua Ciao